Ciao, io sono Martina e io sono Mirko. Ci siamo sposati il 3 agosto del 2024 e adesso faccio parlare a Martina perché lei è molto più brava di me e vi spiegherà perché scegliere Torino Foto. Adesso vedremo se sono più brava di lui. Comunque vi dico che per il nostro matrimonio non potevamo fare scelta migliore. La filosofia di lavoro esposta da Davide ha soddisfatto le nostre esigenze ed è per questo che abbiamo scelto Torino Foto. Il giorno del matrimonio siamo stati seguiti da Daniele e dal suo staff che hanno saputo integrarsi perfettamente all'interno dell'atmosfera della festa. Noi desideravamo avere un matrimonio allegro, coinvolgente, molto spiritoso e diciamo che le nostre aspettative sono state rispettate e anche superate. La differenza tra Torino Foto e altri professionisti del settore è proprio la possibilità per gli sposi di godersi a pieno ogni momento della giornata senza doversi assentare per lungo tempo. Le foto dopo la cerimonia infatti sono state fatte insieme a testimoni da Migelle e mi viene anche da dire che non sono semplici professionisti ma sono proprio parte integrante della festa. Prima del matrimonio abbiamo svolto l'intervista doppia insieme a Davide che è stata molto divertente e ha permesso di ambientarci prima del giorno del nostro matrimonio. Quindi scegliete Torino Foto. Ciao! Confermo! Confermo!